Sui tempi il Presidente ha dato un orizzonte temporale di un paio di giorni, quindi non prima di mercoledì, intanto perché non ha assunto ancora alcune decisioni che sono importanti, perché si parte da una valutazione sanitaria chiara, questa sì, del Comitato Tecnico Scientifico Sanitario, che evidentemente ha rappresentato una situazione della Regione Abruzzo molto più grave rispetto a quella che si immaginava e che quindi impone l'adozione di misure più restrittive rispetto a quelle che oggi abbiamo. L'orientamento è quello di anticipare la zona rossa, quindi esenzio dell'articolo 3 del decreto, quindi entrare nello stesso regime delle Regioni che sono già in zona rossa da qualche giorno, ma anche prevedere qualche ulteriore misura, quindi più che di zona rossa dovremmo parlare di zona rossissima per capirci e per semplificare l'intensificazione delle misure rispetto alla zona rossa, perché l'elemento differenziale è quello delle scuole. Le scuole all'interno delle Regioni in zona rossa restano aperte in presenza fino alla prima media, una delle ipotesi in campo su cui la Regione sta ragionando è la chiusura totale per le scuole di ogni ordine e grado, c'è stata questa interlocuzione con i territori, ci sarà l'interlocuzione anche con l'ufficio scolastico regionale. Noi come ANCI, quindi come sindaci abbiamo ribadito quello che diciamo da tempo, è necessario che l'attività didattica in presenza sia garantita a condizione che venga modificato il protocollo sanitario di gestione sanitaria del rapporto scuole-autorità sanitarie locali, perché non sta funzionando, il protocollo di agosto sta facendo acqua, non regge più, non è più adeguato e quindi seguire lo stesso schema dell'Asli Teramo che con la nota e con le direttive ha chiarito che si deve anticipare la tutela nel nome del diritto alla salute, che deve essere posto prima di ogni altro principio o diritto o interesse, quindi anticipando con la sospensione di attività didattica in presenza da parte di dirigenti scolastici ogni qualvolta ci sia un caso positivo all'interno, si venga a sapere di un caso positivo all'interno delle classi, ferma poi l'adozione di misure più restrittive, quindi modifica del protocollo immediato e secondo aspetto l'inserimento immediato dei tamponi rapidi nell'ambiente scolastico per poter monitorare e tracciare la situazione delle nostre scuole. Queste sono le due condizioni che abbiamo inserito quale elemento per poter garantire in sicurezza nel rispetto dei nostri ragazzi, degli insegnanti, di tutto il sistema scuola dell'attività scolastica. A prescindere di queste misure andranno introdotte anche quello si dovesse arrivare a chiudere, perché se si arrivasse a chiudere l'attività in presenza e non modificassimo questi due aspetti ci ritroveremmo da qui a due settimane nella stessa situazione. Questi sono i due elementi, attendiamo le valutazioni del Presidente, di certo la situazione è una situazione pesante, grave per la nostra regione, quindi siamo tutti chiamati ad un ulteriore sforzo di responsabilità collettiva che deve portarci sempre a fare qualcosa in più rispetto a quello che le norme stesse prevedono.